Ciao a tutti, sono Veronica e ho 23 anni. Il problema principale per cui sono arrivata ad Andrea è appunto perché mi sentivo insoddisfatta del mio fisico, quindi non riuscivo mai ad accettarmi, mi vedevo sempre mille difetti, oltre ovviamente la ridenzione idrica che è un problema che purtroppo turba tutte noi donne. Da quando ho conosciuto Andrea tutto è cambiato perché comunque mi è stato fatto un programma apposito sul mio fisico e da lì mi ha completamente stravolto il mio corpo. Sono riuscita finalmente a sentirmi bene con me stessa e soprattutto ad accettarmi, cosa che prima pur allenandomi ero sempre insoddisfatta, non mi sentivo mai bene con me stessa. In più oltre a questo è veramente una persona ottima e splendida perché comunque oltre ad aiutarmi nel mio percorso, mi è sempre stato vicino e mi ha sempre supportato in tutto, proprio per questo io gli dico sempre che lo considero quasi come un fratello e mi confido con lui su tutto perché appunto i suoi consigli per me sono molto importanti e sono sicura che faremo ancora molta strada insieme e che otterremo altri buonissimi risultati. Grazie mille Andrea per avermi fatto finalmente sentire bene con me stessa.